Se sei una di quelle persone che ingrassa solo a guardare il cibo, probabilmente sei come me e sei una di quelle persone che ha un metabolismo lento. Si vede molte volte a parità di calorie o conosciamo amici che mangiano molto di più di noi e non ingrassano. Noi ingrassiamo perché abbiamo quello che è un metabolismo lento. Oggi voglio parlarti di Zero Fat, che è un supplemento, un mix di elementi in sinergia. Vanno l'obiettivo di migliorare il metabolismo, migliorare l'ossidazione dei grassi, vanno quindi a ridurre la fame e aumentare la termogenesi. Che cosa significa? Significa che aumentano un po' la temperatura corporea e io vado a bruciare più calorie di quelle che consumerei e anche semplicemente a riposo. Quindi se dimagrire ti interessa e il metabolismo lento è un tuo problema, clicca qui sotto e trovi tutte le info su Zero Fat. Grazie.